Siamo arrivati alla conclusione del nostro laboratorio. In questo percorso Hervé Tullet ci ha accompagnato e ci ha insegnato un sacco di tecniche bellissime per creare delle cose veramente con poco. Lui dice sempre che non importa saper disegnare bene per creare delle opere d'arte. E noi ora, con quello che abbiamo imparato, possiamo fare una mostra. Guardate, io ho anche creato un invito. C'è scritto, mostra della maestra Francesca in salotto da mercoledì pomeriggio. Non mancate, questo invito lo darò ai miei familiari, così possono venire a vedere la mia mostra. Ma ve la faccio vedere a voi in anteprima. Guardate, adesso stacco la camera e vi accompagno alla mia mostra. Vedete? Ho attaccato tutti i lavori che ho fatto durante questo progetto in un angolo della mia casa. Vedete? Qua ci sono le case con le finestrelle. i mobili appesi i fiori le cose da mangiare fatte con il gioco del sumo questo è il gioco del traffico dell'ingorgo stradale e qua sotto i lavori di strappo e i lavori di scotch sono tutti riuniti in questo angolo di casa vedete? dove i miei familiari ora possono entrare e possono venire a vedere le opere d'arte che ho fatto e così i bambini potete fare anche voi invitateli a vedere la vostra bellissima mostra e non vi dimenticate di registrare un tour della vostra mostra da mandare anche a noi maestre che siamo curiosi di vedere i vostri lavori.